Ragazzi benvenuti in questo nuovo vlog diciamo Lo volevo fare perché ho visto che siamo arrivati a 20 iscritti Ed è già abbastanza Cioè diciamo tanto si può migliorare Beh è ovvio Adesso io vi iniziamo questo vlog Del vlog che vi parlavo Andremo Andremo Non ve lo dico andremo Dopo diciamo comincia da Perché oggi è Oggi è 13 gennaio mi pare O 13-14 E questo vlog inizia dalla sera Oggi che sto registrando questo pezzo È venerdì sera 13 E poi continuerà con il 15 Forse E poi infine il 16 Il 16 Credo di riuscire a finirlo Spero di non prolungarmi troppo Stavo già di questa parte non duri tantissimo Perché dopo ho altre parti da mettervi Che sono molto fighe E... Niente Devo andare a dormire perché domani mattina ci sveglia prestissimo Siamo alle 3 e mezzo 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 E... domani mattina non so se riesco a registrare qualcosa mentre stiamo in macchina Vedo perché tipo... Cioè ora sonno togliertissimo Vedo 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 Va bene ragazzi Ragazzi abbiamo appena preso la stanza Siamo avanti appena entrati Qui c'è la cucina Peccolina Non manco tanto grande Frigo Vuoto ovviamente La tv Abbastanza piccola Poi c'è il profumo Ragazzi c'è un panorama Cioè non è proprio panorama Si vede un po' Il mare Ci vuole 30 anni per aprire questa finestra Porca miseria Ragazzi C'è tipo C'è tipo tanto spazio sotto Ah vaga Fa una botta quando si chiude sta finestra Aspettate Porca miseria Eh comunque qui c'è C'è il letto Il letto dove dormo io Sotto c'è quello di mio fratello Poi qua c'è il letto matrimoniale Con il telefono di Giacomo Ah qui c'è il bagno Che c'è il mamma Ecco C'è il bagno C'è il mamma E E basta Diciamo che adesso siamo Dotto che io è un residente che ho affitto a queste stanze A Pisi Insomma Anche così c'è C'è la carne Bellissimo E Niente Adesso siamo Siamo a Livorno Vicino Pisa Più o meno Infatti prima siamo andati a Pisa Però Credo di Andarci domani Per bene a Pisa Ciao Stiamo con Mio fratello Siamo a Livorno C'è la statua Non buttare le spalle Valle ducati Non sappiamo Non sappiamo dove stiamo Io sì lo so C'è vabbè A Livorno Però lo sappiamo La città precisa Livorno? Ho capito Come tipo castello C'è San Rocchetto Le crocete No Livorno è Livorno Punto Ah Punto Ok Ok Poi basta Ehm Niente Torniamo indietro Perché? Alle tre apri la scuola Alle tre apri la scuola Ok Qui siamo Vuol dire un acquario Quello giusto Forse Forse Ehm E forse domani Crediamo Che è un acquario Forse E' tutto un forse Ehm Niente Spero che domani Andremo Allora che basso Dai Domani andremo A visitare Pisa Forse Forse E' tutto forse Forse Ma perché c'è tutto il forse Forse A me forse non mi piace Deve essere Sì o no Punto Perché forse Non si può Come rispondi tu Sì o no Boh Eh vabbè Boh è diverso da forse No Sì Con una mano Dove era? Cioè Ci vediamo dopo Perché sì Perché qui c'è un piccolo parcheggio E io odio Quando c'è la gratinata In terra E ci posso sopra A me proprio non riesco Quindi Noi ci vediamo Dopo Da noi E' tutto Ciao Sì Stiamo per partire Per Pisa E Io sto di fuori Perché è abbastanza Credo Dentro c'è un caglio Un casino Un casino Vabbè raga Ci vediamo Fra pochissimo Che Cioè Per voi Fra pochissimo Un secondo Scacchia dell'Italia E siamo Siete a Pisa Per me ci vorrà un po' di più Un'oretta Credo Anche due E niente ragazzi Ciao Siamo a Pisa Questa è la torre E c'è mamma e Giacomo Giustazione dentro A fa i biglietti Tra poco entriamo Siamo appena usciti dalla Dalla Mesa Diciamo C'era La capitale C'era la messa E si è andati lì Si muore ancora Si muore ancora di freddo Adesso Ovviamente Voi vedrete questo video Dovrete quando io ormai Diciamo Sarò In viaggio Per andare a casa Adesso Forse tra poco Andremo pure a Prato E vedremo A Prato? Si a Prato A pranzo No io pure a Prato Andiamo C'è una città che si chiama Prato Ci sono miei amici Andiamo lì Non so se visitiamo qualcosa Allora Vediamo Noi andiamo a Prato Si andiamo a Prato Noi andiamo a Prato Si andiamo a Prato Noi andiamo a Prato Si Allora Noi andiamo a Prato Vedi Ma vediamo Noi andiamo Che mi canzio è bello Allora In pratica Vediamo Che ragazzi Come ho detto prima Mi metto Siccome che Nella cartella Proprio non si possono fare foto C'è proprio il cartello Vero Giacomo C'è proprio il cartello Invece Nell'altra Non c'era il cartello Quindi abbiamo fatto le foto E Mi metterò Un pezzo Il trenino Un pezzo Vabbè Sì il trenino Cioè Cioè Vi metterò un pezzo Dove c'è La musica con le foto Credo Vedi qua Vedi qua Cioè C'è la musica con le foto E niente E niente cosa Non so se Riesciremo a fare qualcosa a Prato Però Vabbè Oggi andiamo a voi nativo Fanta Dio Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao C'è la musica con le foto Grazie.